Senta, aumenta la prostituzione maschile, perché secondo lei? Qui è un po' una domanda di costume culturale che le faccio, non tanto da politico. Ma secondo me, io sono dall'altra parte. E se lo spiega, lei da che parte è? Dalla parte eterosessuale. Totale? Totale, al mille per mille. No, a me piacevano e mi piacciono ancora oggi le donne. Se sono poi non anziane come me, va meglio. Perché io sono un pilota, forse voi non lo sapete, di auto d'epoca. Faccio corse in auto, la prossima settimana farò il Gran Premio Nuvolari, ho fatto due volte la Mille Miglia, ho fatto la Winter Marathon a Badona di Campiglio, ho fatto la Coppa d'Oro delle Nolomiti da Cortina d'Ampezzo, nel Comune di Montiferi Con, che di cui sono sindaco, in cui quasi ottobre ci sarà la seconda Coppa riservata alle vitture storiche. E se mi è costituito una battuta, io dico auto d'epoca, ma obbligatoriamente non donne d'epoca. Auto d'epoca sì, donne non d'epoca. Però, detto questo, può darsi che ci sono quelli che nascono, nascono con quella tendenza, c'è poco da fare. C'è chi nasce eterosessuale e c'è chi nasce omosessuale. Però, chi, secondo me, transita dalla eterosessualità alla omosessualità, può anche darsi, che dipende dal fatto, che oggi le donne, le ragazze, sono troppo disponibili. E quindi può darsi che un ragazzo arrivi a una sorta overdose di rapporti sessuali con le donne. E forse passa dall'altra parte. Basta vedere come vanno in giro. Però è una mia... No, no, è un'opinione. È un'opinione. Che non ha nulla di scientifico, sto dicendo. Cioè, no, si danno molto. Però, allora, noi analizziamo... Se le ragazze, se la dessero io un po' meno, di quanto non faccio oggi, forse i ragazzi sarebbero più, diciamo, interessati sessualmente. Perché mi dicono, ad esempio, che i ragazzi hanno una carica sessuale infinitamente inferiore a quella che eravamo noi. È vero. Ma noi eravamo un po' repressi, però. Non avevamo tutte le occasioni che hanno adesso i nostri ragazzi. E quindi questa overdose di sessualità li porta anche a dei momenti di stanca. Ma hai rifiutato la corte di un uomo? Ha mai rifiutato la corte di un uomo? Non mi è mai capitato che un uomo... Ma giuro! Lei è un bell'uomo. Ma io potrei dire... Poi è maschio. No, io potrei dire che mi è capitato... Ma non è vero. E non ci sarebbe nulla di male. Ma non è vero. E potrei dire che ho rifiutato l'offerta. Non mi è mai... Le crediamo. Ho conosciuto, però, nella mia vita, parecchi omosessuali, certo, dichiarati di una simpatia travolgente, con alcuni dei quali avevo anche un rapporto di amicizia. Ma non mi hanno mai, 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 mai fatto alcuna proposta. Senta, nella PDL ce ne sono? Senza fare nomi? Sicuramente. Ma è come nel Paridemocratico. Come nel Radicale. Ma è un uomo strasensale. Non li conosco, ma... La lobby gay esiste? No, non credo che esiste. Al di là di quella istituzionalizzata da Grillini, che è un po' una cosa di folklore, però, ecco, l'unica lobby è quella lì, che però non so che seguito abbia la lobby di... Penso che la lobby di Grillini avesse un solo seguito all'interno del PDL della sinistra.